Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questo primo evento, primissimo evento della quinta edizione del Food and Science Festival. Io mi chiamo Beatrice Mautino, faccio parte della direzione del festival, quindi delle persone che hanno costruito il programma e che con me hanno messo assieme tutti gli eventi e che si susseguiranno nel corso delle tre giornate che appunto iniziano oggi. Questa mattina il clima devo dire che ci sta, perché insomma è una giornata praticamente estiva, nonostante siamo a ottobre, parliamo di gelati, mi immagino che molti di voi poi usciti di qui andranno a prendersene uno, vi invidio anche un po' se lo farete, parliamo di gelati ma lo facciamo da un punto di vista diverso, tipico tra l'altro del nostro festival, cioè il punto di vista di quelli che vogliono capire come funzionano le cose che vanno a vedere dietro all'apparenza e a quello che normalmente viene raccontato. A noi piace andare a fondo, provare ad aprire le scatole e guardare quello che c'è dentro e quello che è la scatola del gelato che apriremo oggi, è una scatola che parla di sostenibilità, quindi all'interno e nel tempo che durerà questo incontro andremo a scoprire il rapporto di sostenibilità dell'industria del gelato italiano che è un'industria florida, un'industria molto importante e che come ormai tutte le industrie, soprattutto del settore agroalimentare, si interroga sul proprio impatto sul pianeta, sulla propria sostenibilità, mette in campo tantissime azioni per cercare di ridurre il proprio impatto e adesso scopriremo quali sono queste azioni, che cosa è venuto fuori da questi studi e da questo rapporto. Lo faremo grazie alla conduzione e alla professionalità del professor Carlo Alberto Pratesi che gestirà l'incontro di questa mattina, però io prima di lasciare il microfono a lui vorrei chiamare qui sul palco Giovanna Ruffo che è una tecnologa alimentare ma è anche la segretaria del settore dei gelati per Unione Italiana Food che invito a salire sul palco e ringrazio così come ringrazio l'Istituto del Gelato Italiano che è partner del festival e che ha curato questo evento. Quindi a nome della direzione di tutto il festival e di tutto lo staff vi ringrazio per essere qui e lascio la parola a Giovanna. Buon festival a tutti. Bene, grazie Beatrice per la presentazione. Intanto sono Giovanna Ruffo, sono segretaria del settore gelati in Unione Italiana Food. Unione Italiana Food è un'associazione che in Italia rappresenta le aziende che producono il gelato confezionato e oltre che altri settori sono aziende di varie dimensioni e per volontà delle tre grandi aziende che producono gelati confezionati che sono Unilever con il noto marchio Algida, Froneri con vari marchi tra cui i gelati Motta e il nuovo marchio Nui ma anche altri marchi e l'azienda San Montana, il nome dell'azienda coincide con il marchio dei gelati per volontà di queste tre grandi aziende esattamente 30 anni fa, quindi nel 1991, è nato l'Istituto del Gelato Italiano. L'Istituto del Gelato Italiano è la costola di comunicazione di Unione Italiana Food e ha l'intento di promuovere le caratteristiche qualitative e nutrizionali del gelato. La prima importante tappa di questo istituto è stata la creazione di un codice di autodisciplina. In Italia ma neanche in Europa esiste un regolamento, una direttiva, una disciplina normativa che dica che cos'è il gelato, quali siano le denominazioni da attribuire alle diverse tipologie di gelato. L'Istituto del Gelato Italiano ha creato il codice di autodisciplina che definisce le caratteristiche compositive, le denominazioni, le caratteristiche qualitative delle principali tipologie di gelato. Tutt'oggi, dopo 30 anni, è l'unico codice di riferimento nel settore della gelateria industriale. Di fatto a questo punto introduco cosa comunichiamo, al di là di questo codice di autodisciplina, abbiamo il sito, l'istitutodelgelato.it e la nostra pagina Facebook, l'Istituto del Gelato Italiano e cerchiamo di combattere i pregiudizi su questo prodotto, un prodotto che il gelato può essere consumato in tutte le fasce di età, dagli anziani, gli adulti, i bambini e su queste caratteristiche nutrizionali, sul ruolo, del gelato nell'alimentazione delle diverse fasce di età e anche dalle donne in gravidanza. Ne abbiamo parlato proprio in un dossier dito l'anno scorso con un pool di esperti nutrizionisti e lo potete scaricare direttamente sul nostro sito. Non ci siamo occupati solo di nutrizione, di tecnologia produttiva, nel corso degli anni ci siamo occupati appunto anche di sostenibilità e qui in questo fantastico contesto per la prima volta portiamo alla vostra attenzione i risultati e le prospettive, i risultati conseguiti dagli aziende nell'ambito della sostenibilità del processo produttivo del gelato. vi ho detto una delle keywords della giornata, quindi direi che è il momento di introdurre il professor Carlo Alberto Pratesi, professore di marketing, innovazione e sostenibilità nell'Università Roma Tri e vi lascio solo ricordandovi gli hashtag della giornata, Food and Science e l'Istituto Gelato Italiano. Grazie Giovanna, grazie e buongiorno a tutti. Allora sì, il mio compito sarà quello di introdurvi un po' ai temi della sostenibilità, farò una piccolissima introduzione in cui spiegherò come io e come dovrebbe in generale essere considerata la sostenibilità o meglio il significato proprio del concetto perché oggi spesso la sostenibilità viene abbinata ai temi ambientali e poi naturalmente vi introdurrò altre persone che entreranno nel merito della sostenibilità nel mondo dei gelati confezionati. Allora, abbiamo pensato di coinvolgervi, non siete tantissimi qui, nessuno sarà troppo imbarazzato a intervenire, quindi vi faremo delle domande e ci piacerebbe anche avere il vostro parere su questo concetto della sostenibilità legata al mondo alimentare e soprattutto al mondo dei gelati. Quindi vorrei iniziare facendovi una domanda e misureremo un po' le vostre risposte. Forse avete visto che all'ingresso vi hanno dato due cartoncini, ce li avete tutti, controllate, vi sarete domandati a cosa servono. Bene, rosso vuol dire no, verde vuol dire sì, facile, no, sì. Quindi vi faremo ogni tanto delle domande e voi ci darete sì o no e noi fotograferemo e avremo un piccolo sondaggio d'opinione su quelle che sono alcuni aspetti non così ovvi del tema. E quindi inizierei proprio con una prima domanda. Secondo voi il tema sostenibilità legato al concetto, alla categoria di prodotto gelato confezionato, ci sta o non ci sta? Cioè, se dovesse rispondere sì o no, il gelato confezionato è sostenibile o non è sostenibile. Ecco, qui vi invito a votare. Beatrice, anche tu devi votare, mi dispiace. Ce l'hai davanti a te, guarda sulla sedia davanti. Il gelato è sostenibile. Bene, allora possiamo concludere qui questo evento perché abbiamo già raggiunto il nostro risultato. Oh, ce n'è finalmente due. No, anche lì in fondo c'è qualcuno che ha votato no. Magari approfittiamone per chiedere se, Beatrice, se ci vuoi dire tu, visto che siete in due soli e aver detto no, se c'è un motivo o se lo diremo dopo. C'è un microfono, credo, vero? Grazie. Io l'ho fatto ovviamente per amor di dibattito. Ok. Però in realtà la percezione comune non del pubblico del food and science, ma del pubblico in generale, forse sia poco. Infatti, quindi va bene. Probabilmente se avessimo raccolto persone meno informate, molti cartoncini rossi sarebbero stati sollevati. Bene, comunque è ovvio che parlare di sostenibilità richiede anche un minimo di competenza su cosa vuol dire sostenibilità. E quindi vorrei fare un po' il mio mestiere di professore e darvi qualche indicazione su cosa vuol dire essere sostenibile, perché poi possono esserci vari modi per interpretare questo concetto. Allora, iniziamo subito dalla parola sostenibilità, che si usa tantissimo adesso, come si dice una buzzword, una parola che va di moda, però il significato della parola non è così evidente. Anzi, possiamo dire che in genere, in italiano, ha un significato, un'accezione che non è forse quella giusta. Se io vi chiedessi come va la vostra vita di coppia o come va la vostra famiglia e voi mi rispondeste sostenibile, probabilmente io avrei la sensazione che le cose non stanno andando un granché. Cioè sostenibile in italiano richiama un po' il concetto di sopportabile, che non è il significato che invece la parola vuole avere. E la prova è che altri popoli e altre lingue più attente alla traduzione, tipo i francesi che sapete fanno molta attenzione quando traducono i termini inglesi, hanno tradotto sustainable development, quindi sviluppo sostenibile, in development durable. Quindi sostenibile, in realtà, questo ci tengo a sottolinearlo, non vuol dire sopportabile, ma vuol dire durevole. Quindi una cosa è sostenibile se dura nel tempo. E vorrei darvi un'ulteriore conferma di questa interpretazione con la prima slide. Non so se tra di voi ci sono dei pianisti, comunque anche i non pianisti sanno che sotto al pianoforte ci sono dei pedali, e quello tutto a destra si chiama appunto sustain. E sapete che effetto ha? Prolunga la durata della nota. Quindi dire che un prodotto, un'azienda, una persona, una società è sostenibile, vuol dire che sta facendo di tutto per durare nel tempo. Quindi le cose insostenibili, i prodotti insostenibili, non sono prodotti cattivi, prodotti poco etici, prodotti immorali, sono semplicemente prodotti o aziende che probabilmente tra qualche anno non esisteranno più, per qualche motivo saranno stati superati. Quindi dal punto di vista aziendale questo naturalmente ha delle implicazioni. Ecco, fatta questa premessa molto concettuale, vorrei vedere come le aziende possono lavorare per essere sostenibili, quindi come i prodotti possono diventare sostenibili. Da questo punto di vista, se io vi invitassi a digitare su Google la parola sostenibilità e magari mettere l'opzione immagini, quello che lo schema viene rappresentato generalmente la parola sostenibilità è questa qui. Vedete, ci sono varie figure, ma ce n'è una sostanzialmente ricorrente, sono tre cerchi. Cosa vuol dire tre cerchi? Vuol dire che c'è un primo cerchio che in genere noi attribuiamo all'economia, un secondo cerchio che attribuiamo all'ambiente e il terzo cerchio che è la società. Quindi si dice sempre, e qui dico una cosa molto banale, che la sostenibilità ha tre gambe, tre pilastri, sociale, ambientale ed economico. Però questa immagine è sbagliata, come la traduzione sostenibile in italiano. È sbagliata perché? Perché lascia intendere che l'area della sostenibilità sia quel piccolo spazio all'interno dove si sovrappongono i tre cerchi, ma soprattutto lascia intendere che possa esistere un'economia che si disinteressa dell'ambiente, una società che possa sopravvivere senza economia, eccetera, eccetera. Cioè dà un messaggio che non è quello giusto. È come se la sostenibilità sia un aspetto o un'opzione che noi immaginiamo. Sappiamo, ripeto, che non è così. E quindi il modo migliore per rappresentare questo concetto, invece, è questo. I cerchi concentrici. Se qualcuno di voi l'ha studiato, l'ha letto, c'è stato un bellissimo libro di Kate Howard, che è una economista inglese, che ha scritto il libro Economia della ciambella. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra economia, e siccome parliamo qua di consumi e parliamo di prodotti e di aziende, è una ciambella, appunto, che è compressa tra due ambiti, quello sociale e quello ambientale. Cioè, in altre parole, noi non possiamo con la nostra economia interferire negativamente sull'ambiente, perché poi le conseguenze le vediamo, e non possiamo neanche interferire negativamente sulla società, perché poi le conseguenze le vediamo. Se noi sforchiamo i lavoratori, abbiamo comportamenti scorretti nei confronti della comunità, noi intendo dire come aziende, è chiaro che a un certo punto le cose non durano. Abbiamo tantissimi esempi. Pensate all'ILVA, tanto per non parlare di alimentare. È chiaro che quella è un'economia che è entrata in conflitto con la società, ma è entrata anche in conflitto, naturalmente, con le barriere ambientali. Ora, fatta questa premessa, quindi, che l'economia è a metà tra questi due mondi, c'è anche un discorso gerarchico di questi tre mondi, quali sono quelli più rilevanti, beh, è ovvio purtroppo che l'ambiente è quello più critico. Perché oggi si parla tanto di ambiente? Si parla tanto di ambiente perché se l'ambiente si cambia, ha un effetto immediato sul sociale che ha un effetto immediato sull'economia. Quindi il fatto che quando parliamo di sostenibilità spesso parliamo proprio di sostenibilità ambientale è semplicemente perché la sostenibilità ambientale è quella che, ahimè, impatta sulle altre due molto direttamente. Se noi gestiamo male i rapporti con la biodiversità, e lo vediamo anche quello che è successo con la pandemia, immediatamente abbiamo degli effetti sociali e immediatamente questi effetti sociali si traducono in effetti economici. Quindi sostanzialmente noi abbiamo tre fronti, ma alcuni sono più critici, specialmente in questo momento. Finora le aziende se ne sono preoccupate, finora, fino a qualche tempo fa, le aziende se ne sono preoccupate in maniera molto marginale della sostenibilità. Loro pensavano solo agli aspetti economici, avere i conti in ordine e vendere i propri prodotti. Poi ci si rese conto che le cose stanno cambiate, anche a livello istituzionale. Forse l'elemento che ha portato più cambiamento nell'atteggiamento delle aziende è stato proprio quello che ha fatto l'ONU con gli SDGs, cioè ha lanciato un appello e ha detto guardate, fate quello che volete, cari aziende, cari istituzioni, però questi sono 17 criticità sulle quali dobbiamo tutti lavorare. Poteva rimanere anche un semplice appello molto teorico ed ideologico. Questo vi ricordate del 2015. In realtà dal 2015 le aziende hanno recepito questo messaggio, potevano non farlo, non lo so, però lo hanno recepito e quindi questi SDGs che potevano essere un argomento da convegno universitario sono diventati invece delle linee guida per molte delle strategie aziendali. Quindi cosa è successo? È successo che le aziende, non so se riuscite a leggere, forse qui un po' piccolino, sono passate da un atteggiamento addirittura negazionista, che forse era fino alla fine del secolo scorso, ad atteggiamenti più filantropici, mi occupo dell'ambiente perché faccio la donazione al WWF, che per carità è bellissimo, però non è certamente quella la sostenibilità, ad atteggiamenti reattivi, cioè me ne occupo quando nasce il problema, che è già un atteggiamento più serio, ma certamente non quello giusto, fino ad avere un atteggiamento proattivo, cioè cerco di anticipare il problema. Le aziende che sentirete presto parlare attraverso il video o dalla voce di Antonio Feola, che in parte le rappresenta, in molti casi stanno anticipando il problema. Hanno capito che quei 17 goal, 17 obiettivi dell'ONU non sono semplicemente un'analisi teorica accademica del problema, ma sono 17 sfide che se non le cogli e se non le tieni in considerazione, non è che sei cattivo, che sei irresponsabile, sei semplicemente un'azienda che non durerà, cioè che a un certo punto uscirà fuori dal mercato perché i suoi danni, in termini ambientali, in termini sociali, non gli consentiranno di proseguire. Faccio soltanto un altro passaggio, poi naturalmente vi lascio anche alle aziende, dicendo che in pratica questo cosa vuol dire? Ecco, se io voglio, ok, ho capito che è un problema, non farlo, non impegnarmi nella sostenibilità non è sicuramente una opzione, in pratica allora come le aziende si possono muovere e qui c'è un ultimo piccolo schema, no ultimo, quasi ultimo, schema di quali sono le azioni che le aziende fanno e qui chiedo un attimo della vostra attenzione perché rispetto a quelli precedenti è un pochino più complesso. Qui abbiamo messo due parametri, uno è se ci occupiamo del pianeta o ci occupiamo delle persone, o meglio, se le azioni che stanno facendo hanno un effetto sui consumatori e quindi quelli che compra i nostri prodotti o hanno effetti più generici sul nostro grande ecosistema. E poi se stiamo parlando di prodotti o di processi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tra le tante azioni che possono fare le aziende ne esistono alcune, e le metto qui a sinistra, in alto a sinistra, che hanno effetto sul pianeta, quindi effettivamente riducono l'impatto, riguardano i processi, ma non riguardano la persona, cioè chi acquista il fatto che noi abbiamo ridotto il consumo energetico nel produrre i gelati o abbiamo migliorato, che ne so, in agricoltura l'impatto nella creazione dei nostri ingredienti, è qualcosa sicuramente molto utile dal punto di vista della sostenibilità, ma difficilmente il consumatore tende a riconoscere questo sforzo magari con una preferenza o con un prezzo maggiorato. Diversa è la situazione quando l'investimento che abbiamo fatto sta qui a destra, cioè abbiamo fatto un prodotto che è più sano, che ha meno ingredienti chimici, che è più semplice, che ha, ecco, lì è sempre sostenibilità, va benissimo, però è più facile dal punto di vista del marketing, perché io ti sto dando a te consumatore un qualcosa che tu riconosci come un tuo effettivo vantaggio. E poi ci sono delle situazioni più ibride, per esempio questa è quella del packaging, io ti do un packaging che non contiene plastica, per esempio, che è uno dei temi, ma questo, il packaging fa parte del prodotto, ha un effetto positivo sul pianeta, ma non ha un effetto positivo su me che acquisto, tutto sommato non mi cambia nulla. E lì è un po' strano, perché alcuni sono sensibili, altri meno, vedremo che molti lo stanno diventando. E poi abbiamo questo aspetto qui in basso a sinistra, che quando il processo incide sulle persone, per esempio quando facciamo i prodotti biologici, quando togliamo gli UGM, se li vogliamo togliere, diciamo quando ci sono delle attività, per esempio i prodotti locali a chilometro zero, lì non c'entra molto con il prodotto, l'abbiamo fatto a chilometro zero, quindi è un processo, però le persone, specialmente se intervistate, tendono a riconoscere nel chilometro zero, nel prodotto locale, un elemento importante della sostenibilità. Qui vi ho fatto mettere semplicemente un po' di simboletti per capire questo concetto. Sono tutte azioni che hanno a che fare con la sostenibilità, dalla tutela del benessere degli animali, fino ai prodotti tipici o caratteristici, sono tutte cose che rientrano nel grande universo della sostenibilità alimentare, però non sono tutti così semplici da gestire a livello di mercato e quindi, vabbè, ve la lascio, poi se volete ve la potrete anche rivedere dopo con calma. Bene, fatta questa premessa, questo è lo scena, cioè questa è la scacchiera sul quale le aziende oggi stanno lavorando e per complicare ulteriormente le cose hanno anche dei consumatori o delle mode che in qualche modo le inducono a fare alcune cose piuttosto che altre. Con degli amici e degli esperti abbiamo cercato di costruire per esempio una sorta di ciclo di vita delle preoccupazioni ambientali. Ci sono dei temi che qualche mese fa o farsi un paio di anni fa sembravano veramente centrali, pensate all'olio di palma, e ci sono invece temi che sono centrali oggi. E guardate quanti, vi ricordate i sacchetti per l'ortofrutta, sulle pagine dei giornali addirittura si raccontava la contestazione perché non si volevano pagare quei centesimi sui sacchetti bio per l'ortofrutta. Oggi non se ne parla più, forse direi per fortuna, il chilometro zero ha avuto un grande effetto, oggi forse un po' meno di moda, ma ce ne sono altri che stanno emergendo, climate change, biodiversità, contaminanti, spreco, packaging, eccetera. Quindi le aziende sanno che possono fare quello che vogliono, naturalmente, però devono anche tenere conto che il mercato ha delle sue mode, alcune volte sono effettivamente delle mode, altre volte delle emergenze di cui i media parlano, che poi magari dopo qualche mese si dimenticano. Peccato che per adeguarsi su quelle cose c'è un investimento enorme, spesso che dura anni. Cambiare dall'olio di palma a, non so, l'olio di girasole o togliere la plastica dallo stecco di un gelato, beh, non sono cose che si fanno dall'oggi al domani. E quindi c'è questa strana isteria tra un mercato che reagisce velocemente a certe sollecitazioni e le aziende che lentamente possono adeguarsi. E per complicare ulteriormente le cose c'è anche una difficoltà a spiegare alle persone qual è veramente il problema e qual è veramente la soluzione. Perché è molto semplice per un giornalista dire togli quell'ingrediente e il prodotto è sostenibile. In realtà sappiamo che non è così. Cioè sappiamo che in molti casi la risposta più semplice è quella più sbagliata. E quindi purtroppo bisogna raccontare, perché qui non stiamo dicendo quanto è buono il mio prodotto o qual è il suo prezzo. Qui stiamo raccontando la sostenibilità del prodotto, che è un tema molto complesso che a volte è anche controintuitivo. Potremmo citare mille situazioni in cui la plastica, per esempio, è l'ingrediente o il materiale più sostenibile, se gestito nel modo corretto. O magari, appunto, visto che l'ho citato all'olio di palma, è la cosa migliore anche da un punto di vista ambientale. Quindi non si può dire sì o no con troppa semplicità. Bisogna spiegare le cose. Le persone sono interessate a sapere di più? Beh, qui vi faccio solo vedere due ultimi schemini. Il primo che avrete visto spesso, il famoso effetto Dunning-Kruger, in cui le persone magari ne sanno pochissimo, pensano di saperne già tanto. E quindi, paradossalmente, soprattutto quelli poco istruiti o poco consapevoli hanno la certezza invece di essere dalla parte giusta. E questo naturalmente lascia moltissimo spazio alle fake news, perché le fake news quasi sempre sono delle grandissime semplificazioni. E quindi dovrebbero indurre questo meccanismo che ho raccontato in questo grafico, dovrebbero indurre a spiegare meglio, a dare più informazioni, a raccontare meglio quello che l'azienda sta facendo, attraverso i bilanci di sostenibilità, attraverso le etichette, attraverso rapporti. Però anche questo non è così facile. Perché non è così facile? Perché specialmente nel mondo alimentare, quando dai molte informazioni, succedono degli strani effetti. Se io chiedessi a voi, ma ho capito che siete tutti esperti, quindi non cadrete nel tranello. Dareste a vostro figlio una merendina che ha questa etichetta? Allora, mettete anche qui rosso e giallo, sì, rosso e verde. Cosa rispondete? Sì, no. Questa è l'etichetta. E qui, vedi, qua ci siamo metà e metà, anzi, i rossi sono maggiori. Sapete questa etichetta cosa rappresenta? Una banana. Cos'è successo? È successo che l'aumento del dettaglio, invece di tranquillizzare le persone, ha creato diffidenza. Cioè, mi hai detto tante cose, ma io sono più, come dire, più diffidente di prima, sono più insicuro di prima. Capite bene la difficoltà? Noi abbiamo da un lato la necessità di spiegare e dare più informazioni. Dall'altro un atteggiamento che talvolta produce quasi un effetto boomerang, che in alcuni casi è diffidenza, in altri casi è proprio di scollamento. E qui quindi vi faccio vedere l'ultimo schema, che è questo. Cioè, le aziende talvolta pensavano, non solo le aziende, anche le istituzioni, che aumentare il numero delle informazioni avrebbe aumentato la capacità delle persone di capire realmente il fenomeno. E purtroppo la curva non va così, non c'è questa correlazione. La curva è più di questo tipo. Cioè, se io aumento le informazioni capisco di più, ma se eccedo nelle informazioni, nelle parole, nei concetti, l'effetto è questo qui, la famosa supercazzola. Cioè, tante cose, tante cose, tanti riferimenti, e io a un certo punto mi scollego. E proprio per evitare di arrivare a questo pericoloso fenomeno, io finisco qui la mia relazione. Ma direi che mi può essere molto utile a questo punto farvi vedere un piccolo video nel quale abbiamo raccolto pareri di aziende e anche di persone su questi concetti che abbiamo appena illustrato. Grazie e lascerei al video. Le aziende hanno intrapreso il percorso della sostenibilità da molto tempo, ben prima dell'effetto Greta che poi ha travolto tutta l'Europa. E come l'hanno fatto? Intraprendendo una politica di sostenibilità che passa attraverso la misurazione dei loro impatti a livello di stabilimento e la misurazione degli impatti in tutta la filiera. Vi racconto un aneddoto che è successo in un'associazione. Circa vent'anni fa, oltre vent'anni fa anzi, avevamo il problema della gestione dei sottoprodotti e della lavorazione. Immaginate le cialde rotte dei gelati. Ebbene, abbiamo quindi scritto una linea guida tecnica insieme alle aziende anche dei gelati che facesse in modo che questi sottoprodotti diventassero una risorsa per un altro settore attivo a quella dei gelati, cioè la mangimistica, cioè l'industria dei mangimi. Quindi le nostre cialde rotte diventavano materie prime per gli animali. Questo adesso si chiama economia circolare, ma le nostre aziende lo facevano già vent'anni fa. Noi siamo tra le poche multinazionali che hanno al cardine della propria strategia del business la sostenibilità. Come Unilever, come Algida, noi un paio di anni fa abbiamo cominciato fortemente progetti di eliminazione della plastica, perché pensavamo che come leader di mercato dovessimo dare anche un segno. È chiaro che la sostenibilità costa, introdurre nuovi concetti di packaging che non siano di plastica costano, ma questi sono visti come investimenti che noi dobbiamo fare per aiutare gli altri concorrenti a seguirci e tutti insieme dare un impatto positivo. San Montana ha investito in questi ultimi anni soprattutto in termini di studi scientifici basati sull'ecodesign e sull'economia circolare. Ha lavorato molto anche nei suoi siti produttivi per fare interventi di risparmio energetico e ha ottenuto risultati in questi anni sicuramente degni di nota. Uno dei risultati più interessanti che siamo fieri di presentare oggi è quello legato al nostro prodotto Icona, il barattolino San Montana. Nel 2020 ne abbiamo venduti circa 16 milioni di pezzi ed è stato sicuramente un successo, ma è stata anche la prima gamma di prodotti su cui abbiamo studiato, analizzato e incominciato a migliorare per ridurne l'impatto ambientale. Che cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti su diversi progetti legati alla filiera della produzione e distribuzione di barattolino e nel giro di un paio di anni siamo riusciti a ridurre l'impatto ambientale in termini di CO2 equivalente di circa il 13% rispetto al totale dell'impatto su tutta la quantità di quello che abbiamo venduto. Croneri da quando è nata nel 2016 ha investito circa 20 milioni di euro in tecnologie, tecnologie che hanno portato innovazioni sui processi produttivi, ma alcuni di questi investimenti sono andati specificatamente su impianti di cogenerazione. Sono impianti in cui si genera energia che poi viene utilizzata per la produzione e che sono ad alta efficienza e che ci hanno consentito di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente per 12 mila tonnellate all'anno. Sul piano del processo produttivo per noi è anche molto importante cosa fare con gli scarti di produzione, che sono di quantità non irrilevante e per questo siamo riusciti a sviluppare processi e collaborazioni per cui ricicliamo il 99,9% degli scarti di produzione, cosa molto importante. Il gelato confezionato è cambiato costantemente, insomma io per mia esperienza da quando ho iniziato a consumarlo, che era una bambina, devo dire che c'è stata un'evoluzione continua e un miglioramento continuo. Diciamo che l'industria è sempre un po' anche apripista in quelle che sono le tendenze, ha possibilità di studiare quella che è il gradimento, quella che è la richiesta. Sicuramente l'utente è molto più attento oggi a quello che è il tema della sostenibilità, sostenibilità che va a cercare sia in quello che è il packaging, sia in quello che è il prodotto, sia in quella che è l'evoluzione del prodotto e anche nella scelta della materia prima che poi viene proposta. In questo l'industria è stata molto attenta, è cresciuto moltissimo dal punto di vista della qualità il prodotto, ma anche dal punto di vista di come viene presentato, di quello che poi è la filiera corta, di quello che è il packaging e come viene poi smaltito. Guardo l'etichetta, francamente ammetto di non guardare se è ecosostenibile, però guardo sicuramente l'etichetta. Qualche volta ho guardato gli ingredienti, di sicuro qualche conservante c'è dentro, di sicuro qualche colorante viene messo dentro, qualche addensante probabilmente sì. In realtà non me lo sono domandata, nel senso che lo mangio a cuor leggero per farmi una coccola, però presumo contengono comunque dei conservanti. È comodo più che altro, che è una monoporzione che così sei sicuro del quantitativo. Da parte mia vorrei informarmi un po' di più su cosa vuol dire veramente sostenibile, perché tante volte secondo me si dice che certi materiali sono sostenibili, le lavorazioni sono sostenibili e poi bisogna andare un po' meglio per capire se è vero. Essendo molto spesso le confezioni di cartone, il cartone lo si butta nella carta, quindi suppongo che lo sia, ma non vado mai a controllare specificatamente questa parte di packaging. Non conosco le capacità, gli investimenti per l'ecosostenibilità delle varie imprese, non credo facciano abbastanza, immagino che questo possa scontarsi con altre situazioni insomma anche economiche non ultime. Bene, avete visto diversi pareri e anche diversi tipi di azione che le aziende stanno facendo. Adesso però per non rischiare di creare un po' di confusione, perché si è parlato di packaging, di ingredienti, di conservanti, di tanti elementi. Ecco, mi piacerebbe chiedere una sorta di sintesi ragionata a Massimo Marino. Massimo Marino, oltre ad essere un ingegnere ambientale, opera proprio nel campo della sostenibilità del cibo. In particolare la sua società si chiama, pensate bene, Perfect Food, Cibo Perfetto. Quindi lui conosce la ricetta del cibo perfetto. Giusto Massimo? Beh, ci proviamo. Abbastanza. Ecco, forse la domanda che ti farei Massimo è proprio questa. Parlando di alimentare e prodotti alimentari, quali sono gli elementi critici o per meno gli aspetti sui quali in genere occorre intervenire? Non è detto che siano quelli su cui poi le aziende intervengono realmente, ma insomma quali sono le priorità? Sì, allora, quando si analizza un prodotto in generale, ma poi soprattutto quello alimentare, quello che bisogna fare è studiare il ciclo di vita di questo prodotto, quindi non concentrarsi esclusivamente su un aspetto della filiera, ma cercare di andare a capire quali sono i punti critici lungo tutta la filiera. Normalmente dei prodotti agroalimentari, in generale, le materie prime sono quasi sempre uno degli aspetti più critici, per tante ragioni, sia per motivi produttivi, approvvigionamento, logistica e quant'altro, e poi ci sono, diciamo, in base ai tipi di prodotti, in classifica i processi, il packaging, la distribuzione, il consumo, che sono aspetti su cui si deve intervenire, ma storicamente si interviene in modo un pochino più frequente, perché sono normalmente processi, come abbiamo visto nel video, governati dalle industrie direttamente. Quindi, quando si lavora sulla filiera, diciamo, della produzione, normalmente c'è molta attenzione sulle materie prime, negli ultimi anni, come diceva nel video Antonio, si sta iniziando a introdurre anche un pochino l'analisi della filiera, e delle materie prime, quindi. Ok, quindi a volte questo è un po' controintuitivo, no? Ci sembra che uno pensa che la cosa che più inquini sia il processo di lavorazione delle materie prime, invece, guarda caso, è a monte. Molto spesso, gli aspetti più importanti sono... Ecco, e questo massimo sul gelato in particolare, sul gelato confezionato, c'è qualche elemento poi che lo rende diverso rispetto ad altri prodotti alimentari in termini di sostenibilità? Allora, sul gelato confezionato possiamo dire che, visto che, diciamo, la filiera del freddo è un elemento chiave, ovviamente nel caso del gelato confezionato l'attenzione sull'industria è un pochino più alta, nel senso che ovviamente gli aspetti ambientali che governano il processo industriale, quindi il governo della catena del freddo, scusate il bisticcio di parole, sono molto rilevanti. Quindi, in sintesi, consumo di energia sicuramente è un elemento importante e di conseguenza l'emissione di CO2, per cui questo è un... Infatti qualcuno nel video ne ha parlato, parlando di impianti tecnologici e così via, e poi il packaging. Il packaging, sia perché è, come sempre, il packaging nei prodotti alimentari, ma in generale in tutti i prodotti, un elemento di comunicazione con il consumatore, ma soprattutto nella catena del freddo, il packaging ha anche una funzione tecnologica importante, devo mantenere la catena del freddo, quindi non potrei mettere il gelato in un prodotto, in un elemento di imballaggio, che non è in grado di mantenere le caratteristiche tecnologiche. Quindi, se dovessi andare molto, molto in sintesi, nell'industria del gelato, concentrerei l'attenzione su questi due elementi, packaging e processo industriale, puntando all'efficienza. Interessante il tema del packaging. Allora, facciamo un'altra domandina al pubblico. Quanti di voi, non voglio dire nel gelato, perché sarebbe una situazione troppo specifica, ma in generale, quando acquistate i prodotti alimentari, guardate l'etichetta, ma non sui contenuti nutrizionali, che immagino vi capiterà più spesso, ma guardate se c'è qualche riferimento all'impatto ambientale di quel prodotto, di quel packaging. Quanti di voi osservano e notano? Sinceri? Vabbè, se sono sinceri, siamo una platea molto consapevole. C'è un gruppetto lì a sinistra di rossi, ma in realtà molti guardano anche questi aspetti e questo ci fa molto piacere. Perché Massimo, in realtà la domanda che a questo punto ti farei è, effettivamente i consumatori hanno un ruolo rilevante in questo ciclo di vita dei prodotti in termini di impatti ambientali? Beh, assolutamente sì, perché i consumatori, dal mio punto di vista, hanno due ruoli importanti. Uno di cui si parla più frequentemente è che è la scelta. Quindi il consumatore deve scegliere prodotti che siano più sostenibili. Adesso la dico volutamente un po' superficiale. Però in realtà ci dimentichiamo poi quello che il consumatore fa quando utilizza il prodotto, che sia un'automobile o qualsiasi cosa. Quindi io posso comprare un prodotto super sostenibile, ma poi magari mi comporto in modo insostenibile io. Quindi nel caso, ad esempio, dei gelati, gli aspetti fondamentali sono due. Uno, forse un po' più sofisticato, che è la manutenzione di tutti gli impianti che servono per mantenere la catena del freddo, che ricordiamoci, soprattutto nel caso dei gelati, è un elemento molto, molto complesso. Quindi sia a casa nostra, sia, mi riferisco anche a consumatori professionali, come per esempio bar, ristoranti, la manutenzione delle attrezzature che consentono di mantenere il freddo è fondamentale. Quindi il frigorifero. Il frigorifero, certo. Il freezer e il frigorifero con due dita di ghiaccio non sono esattamente la cosa più sostenibile. E l'altro tema è il packaging. Tornando sul packaging, quindi cosa io faccio una volta che ho mangiato il gelato dell'imballaggio che ho in mano, per cui lo devo smaltire in modo corretto. Uno mi può dare un imballaggio riciclabile al 100%, ma se poi io lo abbandono nell'ambiente... Certo. E da questo punto di vista ci sono delle importanti novità, perché sta entrando in vigore una normativa sull'etichettatura ambientale nei packaging che proprio dovrà dare le indicazioni molto precise, perché poi tutti noi a volte ci troviamo a non capire se quella packaging va da una parte o dall'altra. In effetti, se pensiamo per esempio alla plastica nei mari o all'imballaggio nei mari, non ci sono andati da soli. Quindi vorrà dire che il consumatore in qualche modo ha gestito questo rifiuto in modo non sostenibile. infatti, siccome il tema è della plastica, il tema è che non ci deve essere plastica in natura e per non farla riare in natura deve seguire un certo percorso. Se questo percorso viene interrotto o non è previsto, i danni li vediamo. Grazie Massimo, tornerò presto a farti altre domande. A questo punto vediamo invece il lato aziende, perché quello che dicevamo all'inizio è che le aziende spesso sono state proattive. cioè, malgrado un consumatore che a parte quelli qui presenti a volte sembra un po' distratto rispetto ai temi della sostenibilità nel cibo, invece le aziende da Antonio Feola ci diceva da tempo stanno cercando di migliorare i loro processi per ridurre questo impatto. E proprio per saperne di più abbiamo invitato Antonio Feola non solo in video ma anche in presenza e quindi ci aiuterà a capire cosa in pratica stanno succedendo in particolare visto che è stato pubblicato un bilancio di sostenibilità che avete anche ricevuto o se non l'avete ricevuto potete ritirarlo e ci racconta i risultati ma questi risultati sono risultati di un percorso lungo che magari Antonio riesci a spiegarci anche con delle slide. Va bene, grazie buongiorno a tutti la prima cosa che farò tornando a Roma è sbrinare il frigorifero perché Massimo ce l'ha ricordato. Sono Antonio Feola sono responsabile sostenibilità di Unione Italiana Food non mi dilungo sulla nostra organizzazione interna ma vorrei sottolineare perché è importante presentare un bilancio di sostenibilità dal punto di vista associativo perché fa parte del nostro modello cioè noi abbiamo la fortuna da tempo di avere delle aziende che mettono a disposizione all'interno dell'associazione la loro esperienza il loro sapere e i loro dati e grazie a questo riusciamo poi a redigere dei documenti tecnici che vanno a favore di tutti tutta la base associativa e non solo spesso sentiamo parlare di Green Deal questo obiettivo della comunità europea di arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050 uno dei cardini del Green Deal è proprio l'efficienza energetica bene grazie al nostro gruppo di aziende noi abbiamo scritto una linea guida insieme all'Enea che è l'ente pubblico di ricerca sull'energia e l'ambiente italiano una linea guida sull'efficienza energetica che è disponibile a tutti sul sito pubblico dell'Enea questo è un modello quindi non lo facciamo solo sul bilancio di sostenibilità ma anche su altri dossier di interesse della base associativa ma veniamo al nostro rapporto di sostenibilità dei gelati questo è un estratto quello che presentiamo oggi presentiamo qualche slide sintetica è a disposizione tutto il rapporto di sostenibilità dei gelati dicevo è un estratto del più ampio rapporto di sostenibilità di Union Food vedete abbiamo già visto prima gli SDGs che sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile non ci dilunghiamo su la prima riga è sostanzialmente votata alle persone la seconda è più lato business gli ultimi dal 13 al 17 sono più gli obiettivi prettamente destinati all'ambiente che cosa abbiamo fatto con le aziende abbiamo costruito questa matrice di materialità che cos'è la matrice di materialità beh è una sorta di elenco delle priorità aziendali che nascono dal confronto che l'azienda fa con i propri interlocutori privati e pubblici quindi si raccolgono tutte le informazioni utili e l'azienda ridice questa matrice di materialità perché è utile perché quando poi abbiamo un indice alto o molto alto di tematiche di interesse l'azienda è libera di sviluppare le proprie politiche di sostenibilità proprio su quegli aspetti che ha individuato grazie alla matrice di materialità in questo caso è una matrice di materialità qualitativa perché noi abbiamo fatto una sorta di media delle matrici di materialità delle varie aziende che fanno parte del rapporto di sostenibilità e ne abbiamo pubblicata una di settore l'abbiamo inviata agli stakeholders alla distribuzione alle ONG anche a dei giornalisti alle associazioni agricole e quindi è stata in qualche modo validata in questo modo diceva prima la collega Giovanna che il settore dei gelati è ampiamente rappresentato in Italia da tre aziende queste aziende producono ben 240.000 tonnellate di gelati l'anno e sono ubicate dove vedete gli stabilimenti sono i Lever sono Froneri e San Montana sono le più grandi ce ne sono molte altre ma solo queste tre sostanzialmente producono circa il 90% del gelato industriale nazionale qual è stata la metodologia ve l'ho accennato poco fa abbiamo messo intorno a un tavolo le aziende abbiamo chiesto alle aziende dati quantitativi quindi delle bollette che loro hanno all'interno degli stabilimenti per individuare i principali indicatori ambientali consumi di energia consumi di acqua CO2 prodotta rifiuti recuperati rifiuti prodotti e quant'altro li abbiamo raggruppati in un periodo che va dal 2013 al 2019 abbiamo tirato i principali risultati tutto lo spaccato chiaramente dello studio è all'interno del rapporto di sostenibilità più ampio qui ci focalizziamo su qualche numero e si vede come soltanto un settore che è quello dei gelati con il proprio impegno ha in 5 anni risparmiato oltre 12 milioni di chili di rifiuti che pari non ci vedo più ma è pari a un paese di circa 24.000 abitanti e quindi ai rifiuti prodotti da un paese di 24.400 abitanti e hanno risparmiato le aziende con le proprie polisi 100.000 gigajoule con le quali si potrebbe dar elettricità a un centro abitato di 8.400 persone il settore che è un settore molto vivace consuma il 60% di energia da fonti rinnovabili e tutta questa energia è certificata con dei certificati di origine perché il 60% qui mi ricollego a quello che diceva prima credo l'amministratore delegato di Froneri ci sono degli impianti ci sono degli investimenti molto grandi che fanno le aziende per aumentare la propria efficienza energetica si chiama cogenerazione in pratica utilizzo gas per produrre energia elettrica calore e anche freddo nel caso dei trigeneratori la cosa buffa è che sono impianti molto efficaci quindi consumano meno per produrre tanta energia ma vanno alimentati a gas che non è una fonte rinnovabile e quando noi per esempio come associazione chiediamo alle istituzioni possiamo utilizzare il biogas per esempio proveniente dai sottoprodotti dell'industria dell'agricoltura per far sì che tutta l'energia sia da fonte utilizzata sia da fonte rinnovabile la legislazione in questo caso non ci aiuta moltissimo è ancora un po' confusa quindi quando parlava anche il professor Pratesi dell'importanza del consumatore dell'impegno dell'industria sicuramente l'altro tassello importante è la normativa che consente poi all'industria di muoversi in maniera snella e di permettere poi di fare la sostenibilità mi fermo di qui grazie quindi quindi la sensazione però qui voglio chiedere anche il parere ai nostri partecipanti è che le aziende in qualche modo stiano spingendo prima ancora delle istituzioni e dei consumatori ecco vediamo cosa ne pensate voi può essere vero che in Italia le aziende industriali siano il motore o comunque lo stimolo prevalente verso la sostenibilità in campo naturalmente alimentare ecco come rispondete sì ah vedi molti molti sì e qualche e qualche no e allora a questo punto Antonio lo chiedo a te molti sono stati convinti da quello che hai detto e quindi hanno la sensazione che siano proprio le grandi imprese addirittura che stanno spingendo anche se poi forse nella pubblico più in generale vengono quasi visti come responsabili invece della insostenibilità dal tuo punto di vista qual è lo stakeholder visto che hai parlato anche tu di stakeholder più critico che andrebbe in qualche modo più stimolato a partecipare a questo percorso verso la sostenibilità alimentare sia nel mondo del gelato o più in generale degli alimentari cioè qual è l'anello debole del sistema che in qualche modo rischia di frenare un percorso allora mi sentite sì quello che osserviamo noi in associazione sono dei fenomeni complessi allora abbiamo già fatto un accenno all'importante ruolo istituzionale che indubbiamente c'è nella creazione delle norme stiamo vedendo in questi giorni al Tg l'effetto Greta lo accennavo prima e non solo di Greta ma di tutte l'ondata verde portata avanti dai giovani che esigono dei cambiamenti dei modelli di sviluppo economico ma la domanda che spesso ci facciamo è riguarda solo i giovani questo o no allora siamo andati un po' a studiare e abbiamo visto che in una recentissima indagine del Parlamento Europeo in realtà nello stesso periodo che con cui durante il quale abbiamo studiato i dati del rapporto di sostenibilità cioè dal 2013 al 2019 il cittadino europeo al quale è stato chiesto quali sono le principali criticità di che cosa hai paura è passato da avere paura del terrorismo internazionale per ovvi motivi nel 2013 dall'inquinamento e della mancanza d'acqua è passato a climate change imballaggi e disponibilità di acqua quindi le politiche della comunità europea rispondono a questo sostanzialmente su due binari da una parte normando il Green Deal il Farm to Fork che è un indirizzo soprattutto rivolto all'agricoltura il Fit for 55 l'abbiamo visto qualche tempo fa ma c'era già stato tutto il pacchetto dell'economia circolare da un lato quindi si spinge la decarbonizzazione ma dall'altro si spinge la leva del consumatore che deve essere sempre più l'attore che sceglie prodotti ad impatto ambientale positivo ecco ti faccio l'ultimo esempio quello che noi stiamo facendo con le aziende anche del gelato è proprio partecipare a un progetto Life europeo che norma proprio questo cioè che si occupa proprio di questo di come informare il consumatore sugli impatti ambientali dei prodotti in Italia c'è un testo di legge che si chiama Made Green in Italy stiamo facendo questo esercizio perché vogliamo aiutare le aziende ma anche il consumatore ad essere più consapevole delle prestazioni ambientali dei prodotti che mettiamo sul mercato italiano anche perché la bella notizia è che l'Italia viene comunque vista come un paese leader guida del mondo sui temi del cibo quindi se avviene qualcosa in Italia in tema di cibo beh questo ha degli effetti altri settori industriali italiani purtroppo non hanno nulla da insegnare agli altri invece sul cibo ci viene riconosciuta una competenza competenza maggiore Giovanna volevo chiedere anche a te un'aggiunta di informazioni visto che tu ti occupi soprattutto di nutrizione e immagino che sul gelato come su altri prodotti confezionati ci sia una crescente attenzione tu hai la sensazione che le persone tendano oggi a essere più curiose e desiderose di informazioni sui prodotti oppure è qualcosa che riguarda sempre una nicchia del mercato le persone diciamo normali guardano che sto comprando e qual è il prezzo devo dire che vai si sente si sente ok l'interesse risulta crescente anche dalle indagini che effettuiamo anche noi sicuramente la leva del prezzo soprattutto negli ultimi anni continua ad essere una leva importante ma non da ultima anche quella della composizione nutrizionale degli alimenti tant'è vero che fino al regolamento del 2011 l'etichettatura nutrizionale sugli alimenti era volontaria quindi gli alimenti potevano non riportarla adesso ci sembra assurdo che non ci sia ebbene in realtà è dal 2016 che poi è entrato in vigore quest'obbligo le nostre aziende invece ben prima del regolamento anche le aziende del gelato si sono impegnate col ministero della salute per mettere l'etichettatura nutrizionale sui propri prodotti pensate già nel 2008 le più grandi aziende ce l'avevano su tutti i prodotti e solo nel 2016 è diventata obbligatoria l'obbligo è stato indotto proprio da indagini della commissione sulla rilevanza di questa informazione per i consumatori bene quindi c'è un'evoluzione in atto noi ci stiamo avviando verso le conclusioni abbiamo detto un'ora e più o meno ci stiamo regolando su quel tempo prima di passare ad un ultimo giro di pareri dei nostri amici su quello che sarà il futuro quindi preparatevi cioè cosa vedete da domani in poi in termini di tendenza rispetto al vostro osservatorio ecco vorrei chiedere ai partecipanti se quello che avete sentito in questa oretta ha un po' incrementato e migliorato le vostre competenze sull'argomento e quindi se pensate di aver imparato qualcosa da quello che abbiamo sentito più o meno erano cose che già conoscevate avete imparato qualcosa in più quasi tutti sì c'è qualcuno che era già due o tre che erano già abbastanza esperti beh ci fa piacere che l'avevamo capito anche dalla prima domanda che c'è tra di voi persone competenti adesso però proprio perché vogliamo darvi anche magari qualche anticipazione di quello che potrebbe succedere partendo magari da Massimo gli chiederei secondo te cosa succederà nei prossimi anni anche perché la pandemia ha modificato qualche atteggiamento e qualche sensibilità tu cosa vedi di cosa parleremo l'anno prossimo al Food Science Festival mi riaggancio a quello che si diceva prima delle imprese dicendo che come tutti i campi ci sono imprese brave e imprese cattive quelle che stanno lavorando da tanti anni sulla sostenibilità io faccio questo mestiere ormai dal secolo scorso e le prime fatture le abbiamo messe in lire su progetti in cui si lavorava sulla sostenibilità quello su cui si sta lavorando tanto adesso è mettere l'innovazione al servizio di tutto quello che è la produzione agroalimentare in un evento recente l'avevo un po' chiusa dicendo è un po' come la barzelletta in cui c'è un italiano francese e un inglese qui c'è un agricoltore un informatico un comunicatore che si trovano al tavolo e fanno un progetto quindi quello che noi stiamo vedendo è tantissimo l'integrazione ad esempio di sistemi di informatizzazione delle filiere agro nel senso agricolo e zootecnico soprattutto portando a servizio appunto degli agricoltori e degli allevatori sistemi esperti di supporto alle decisioni contabilizzazione monitoraggio delle informazioni droni che volano che capiscono cose danno informazioni eccetera quindi io credo che quello di cui probabilmente parleremo qua l'anno prossimo sarà questo racconteremo che cosa è successo nel 2021 barra 22 tra questo agricoltore questo informatico e questo comunicatore che si sono messi quindi comunque innovazione innovazione per la sostenibilità questo mi sembra che sia il messaggio grazie Antonio le aziende seguiranno queste più perché oggi abbiamo parlato sostanzialmente di tre grandi aziende ma l'Italia è fatta da tante più aziende ecco tu cosa vedi come sensibilità al tema vedo che le aziende avranno nei prossimi anni o per obbligo di legge o per mission aziendale l'obiettivo di decarbonizzare i propri processi produttivi contabilizzando gli abbattimenti di CO2 sempre più e questo non può riguardare solo il processo produttivo ma per forza parlando di aziende agroalimentari anche il campo quindi tutta la filiera sarà sempre più coinvolta in questi processi che dovranno portare per forza di cose a un risparmio a un abbattimento delle emissioni di CO2 con le tecnologie a disposizione non so se ce la faremo già per l'anno prossimo a presentare i risultati ma questa è la strada quindi innovazione e collaborazione perché altrimenti l'innovazione si ferma dove è partita Giovanna invece lato prodotti magari o consumi cosa vedi? Certo lato prodotti sicuramente con l'obiettivo sempre di avere prodotti sani e sostenibili ormai sono due aggettivi che vanno di pari passo le aziende sicuramente continueranno nella riduzione di quelli che vengono chiamati nutrienti critici come i grassi saturi e gli zuccheri ma non ci si limiterà più solo a questo ma anche innovazione di prodotto quindi riformulazione ma anche innovazione di prodotto cercando di soddisfare nuove esigenze l'esigenza ad esempio di una dieta vegana o vegetariana quindi con la sostituzione di alcuni ingredienti la sostituzione del latte con altri prodotti come bevande a base di soia o mandorla ma anche ma anche prodotti che possano soddisfare gli intolleranti al glutine gli intolleranti al lattosio è un ambito che sta crescendo che continuerà ad avere un forte interesse e ultimo aspetto sempre continuando sull'innovazione nuovi ingredienti dai più tradizionali ma anche i più esotici e gustosi pensando al cioccolato rubi o frutta guscio che viene da che ricorda paesi agi più esotici bene grazie giusto per sicurezza qualcuno potrebbe avere qualche domanda per i nostri esperti quindi prima di lasciarvi vi lascio anche l'opportunità di fare una domanda c'è qualche domanda ecco lì una e due allora sentiamo salve grazie prima di tutto dei vostri interventi io vorrei fare una domanda ovviamente provocatoria la mia domanda un pochettino da quello che avete esposto ci avete un po' spiegato mi sembra quasi che la situazione in cui ci troviamo adesso sia quasi frutto del marketing e delle scelte delle aziende che sono state fatte in passato cioè sembra quasi come se oggi queste nuove forme di sostenibilità innovazione sia una forma di placebo ma che non stiano risolvendo effettivamente i problemi in cui siamo oggi l'utilizzo di parole è un prodotto più sano più sostenibile dall'idea che allora io in questo momento non sto producendo qualcosa di sano sostenibile cioè quando un'azienda nasce ha dei principi perché questi principi vanno pari passo con le varie mode legate spesso alla vendita di più o meno prodotti sempre legati al marketing cioè la domanda sfintetizzando è le aziende lo fanno perché se non lo facessero non venderebbero più e prima non lo facevano perché non serviva oppure perché effettivamente ci sono delle esigenze o dei valori che le aziende vogliono portare avanti a prescinde da quello che il mercato chiede questa è una domanda difficile ma vi lascio il tempo di riflettere nel frattempo ce n'era un'altra prego lì dietro mi chiedevo secondo voi quando arriverà il momento in cui il mercato della sostenibilità sia effettivamente competitivo io mi occupo di sviluppo di prodotti a marchio per la grande distribuzione e spesso ci troviamo di fronte a certi dilemmi quando dobbiamo sviluppare un packaging piuttosto che un altro i prezzi hanno dei gap importanti tra bioplastiche oppure plastiche convenzionali secondo voi quando riusciremo ad avere un mercato competitivo della sostenibilità perfetto questa è una questione economica molto corretta come domanda ce n'era un'altra qui davanti e credo che abbiamo finito ah ce n'era un'altra scusate ah ce n'è anche una qui buongiorno allora dal punto parlando di appunto gelati confezionati l'impressione è quella che negli ultimi anni ci siano state delle variazioni dal punto di vista soprattutto dei gusti però da consumatore e sembra che invece tutto il resto sia rimasto abbastanza stabile quanto questo è vero oppure c'è stata della innovazione diciamo così invisibile che poi non è passata ai consumatori ok quindi questa innovazione di cui si parla nel prodotto a volte non è percepibile si vede soltanto magari quando cambiano i formati o i gusti ma invece c'è qualcosa che è cambiata qualcosa hanno detto anche le aziende nel video ma magari vale la pena recuperare qualche elemento e ultima qui ah su c'era ancora iniziamo da in fondo scuola vi ho perso chi era lì in fondo che ha alzato la mano ah lì proprio in fondo in fondo questa è una sala enorme prima di arrivare purtroppo non potete grazie la mia era più una curiosità voi avete parlato della decarbonizzazione come un obiettivo nel futuro ma anche dell'importanza della catena del freddo soprattutto nella produzione del gelato volevo sapere se già da adesso ci sono dei progetti o insomma dei piani per quanto riguarda il trasporto su ruota tipo camion e quant'altro chiaro grazie trasporto questo credo che sia roba di massimo e abbiamo un'ultima domanda grazie dunque ci avete parlato del ruolo dei consumatori e delle aziende ma per quanto riguarda le istituzioni stanno facendo abbastanza per informare gli utenti per informare i consumatori o potrebbero fare qualcosa in più per fornire strumenti formativi educativi in merito ottimo grazie allora ve le posso riassumere se qualcuna non sapete ci provo io la prima era se questa attenzione alla sostenibilità è diciamo frutto di opportunismo chiamiamolo così di marketing ho tradotto così in molto sintesi e quindi forse già su questa potrei ascoltare prova a rispondere io questa era la più difficile però e quindi vuoi che la rispondo io no ti provo a rispondere perché allora due cose i prodotti presenti alimentari presenti sul mercato ma non solo i gelati sono sicuri e sono sani perché una delle tue due domande era considera considera questo che c'è un ti rispondo anche sulla parte sostenibilità chiaramente c'è un impianto normativo elaboratissimo in Italia probabilmente il più elaborato d'Europa o tra i più elaborati d'Europa che consentono di poterlo dire ad alta voce il lato sostenibilità qui la domanda diventa più complessa perché secondo me stiamo tutti un po' imparando nel senso che anche le aziende lo dicevano anche prima le aziende la sostenibilità presenta comunque una necessità di politiche di sostenibilità di cambiamento allora presa di coscienza da parte aziendale da un lato le istituzioni che devono fare la propria parte dal punto di vista normativo e poi l'azienda che deve scegliere di intraprendere una politica di sostenibilità che significa magari cambiare fornitori magari cambiare impiantistica magari investire in un co-generatore magari cambiare tipo di packaging e passare da un packaging magari poco sostenibile a un packaging più sostenibile poi parliamo cosa più sostenibile cosa no di un packaging magari ma sono dei processi complicati dal punto di vista aziendale che non si possono fare in un lasso di tempo breve il segnale secondo me che ci dovremmo portare a casa è quando questi grandi gruppi prendono coscienza di questo e iniziano ad investire e iniziano innescano un processo di sostenibilità perché questo consente poi dopo a tutto un settore di in qualche modo di seguirlo questo è il segnale più importante c'è da fare questo senza dubbio bene aggiungo un pezzettino molte imprese appunto ripeto la mia esperienza è di questo di lavorare in questo settore da tantissimi anni con imprese sostanzialmente quindi noi lavoriamo su progetti molto lunghi come diceva Antonio normalmente sono progetti che devono avere per forza un respiro lungo perché hanno bisogno di investimenti e quindi le cose più sostenibili nel tempo sono quelle che hanno un respiro lungo quello che sta succedendo dal nostro osservatorio negli ultimi 5-6 anni è che il marketing ha accelerato questo processo e quindi chi era fuori da questo mondo ci è entrato e magari alcuni di questi che ci sono entrati sono entrati un po' diciamo in modo superficiale però condivido molto quello che ha detto Antonio che quando si muovono poi i grandi gruppi si trascinano dietro le filiere e quindi agli agricoltori ci si arriva perché si muove un grande produttore di pasta piuttosto che un grande produttore di cioccolato quando si muovono quelli poi a quel punto si muovono i settori certo e scusa sul discorso del premium price quindi di perché i prodotti poi sostenibili hanno un prezzo spesso più alto come anche quelli più sani perché pensiamo al bio c'è sempre un prezzo più sano beh io qui due cose darei due risposte sono l'unico lavorato in economia tra di voi giusto allora rispondo no ci sono due aspetti uno si chiama l'economia di scala è chiaro che finché rimangono nicchie i prezzi sono più alti quando diventa il mercato generale che adotta un certo standard i vantaggi in termini di costi sono tali che possono essere in parte ribaltati sui consumatori però c'è un aspetto che secondo me è più controverso che negli ultimi anni abbiamo un po' perso il concetto di valore del cibo cioè c'è stata una tendenza ad abbassare i prezzi e anche da parte dei consumatori ad apprezzare il cibo a prezzi molto economici che purtroppo non è di per sé sostenibile quando acquistiamo cibo a dei prezzi spesso ridicoli che troviamo una grande distribuzione stiamo creando degli impatti negativi e non solo sull'ambiente spesso anche sui lavoratori perché gli agricoltori poi sono pagati poco perché sono una serie di attori della filiera che a prezzi così bassi non ce la fanno a sopravvivere e devono magari anche adottare delle forme di retribuzione o di impiego che noi non considereremo sostenibili quindi da un lato speriamo che i prezzi calino quando tutti chiederanno lo stesso tipo di standard dall'altro però rassegniamoci il cibo purtroppo o per fortuna ha un valore alto e non possiamo pensare di spendere più per le nostre telefonate quotidiane oppure il nostro smartphone che non per quello che acquistiamo sul mercato per mangiare quindi dobbiamo ridare valore al cibo anche in termini economici quindi scusa per concludere ci sono dei prodotti che sono troppo economici non è che sono altri che sono troppo cari a volte e questo va un po' considerati magari anche con dei sussidi pubblici che consentano alla filiera di resistere per quanto riguarda l'innovazione più o meno visibile o no sui prodotti gelati ci puoi dire qualcosa che magari non si nota ma che è successa? Sì effettivamente devo dire che il grosso ostacolo nel comunicare obiettivi raggiunti di ricerca e sviluppo è anche la normativa per ridurre grassi saturi gli zuccheri in un gelato è una riformulazione che si fa in piccoli passi sia per abituare il consumatore sia per avere certezza del risultato se io tolgo tutti i grassi da un gelato viene un ghiacciolo e quindi viene duro e perde la sua palatabilità se tolgo lo zucchero non avrà il suo sapore dolce non è più un dolce quindi devo fare piccoli passi per raggiungere risultati step by step e purtroppo questi piccoli passi che faccio nel corso degli anni non li posso comunicare perché la norma mi consente di dire ridotto in grassi solo se riduco di una certa percentuale e dall'anno all'altro in un gelato questo a volte non si può proprio fare e quindi si deve fare in piccoli passi e la norma non ci consente di comunicare i piccoli passi che le aziende fanno ogni anno noi li abbiamo monitorati e abbiamo preso un impegno con il ministero della salute proprio durante Expo nel 2015 per raggiungere poi nel 2018 una riduzione in grassi saturi e zuccheri soprattutto nei gelati destinati ai bambini ma proprio perché è stato fatto gradualmente nel corso degli anni in etichetta non lo vedete ma noi li abbiamo monitorati ogni anno ricevendo i dati dalle aziende quindi c'è ma non sempre si vede Massimo a te una risposta flash sui trasporti e decarbonizzazione la racconto con una piccola storia velocissima la settimana scorsa eravamo in un posto in cui si parlava di allevamento di pesci e in generale del mercato ittico è saltato fuori che si parlava con degli allevatori pugliesi che dal mercato del pesce della Puglia partono due camion uno col pesce pescato e uno col pesce allevato che vengono entrambi sui mercati del nord quindi in uno ci sono le triglie e in uno ci sono le spigole e la mia domanda è stata perché è perché non si sono messi d'accordo quindi vuol dire che anche qua secondo me l'innovazione è importante ma l'innovazione non dobbiamo sempre pensarla come innovazione tecnologica per cui bisogna per forza andare a cercare il mezzo che consuma meno eccetera perché spesso l'innovazione è organizzativa quindi nel caso dei trasporti bisognerebbe lavorare e si lavora sia per andare a cercare il mezzo ibrido o il mezzo che consuma meno che impatta meno ma usandolo con criterio perché magari è un mezzo molto bello ma lo uso appunto facendo partire un pesce per camion tra l'altro c'è anche il trasporto o un gelato per camion c'è anche il trasporto su rotaia che potrebbe invece essere la soluzione migliore e stanno arrivando tantissimi soldi dal PNRR per modificare e migliorare la struttura dei trasporti su rotaia speriamo che il pesce viaggi sul treno sì esatto oggi poi parliamo di gelati però il concetto è un po' lo stesso anche perché anche quello è un prodotto che ha bisogno della catena del freddo quindi prodotti complicati ma in realtà ho detto questa roba per riportare l'attenzione sul tema dell'innovazione ma anche non solo tecnologica anche organizzativa organizzativa perfetto ultima risposta la diamo ad Antonio le istituzioni stanno facendo abbastanza oppure potrebbero fare di più per educare il mercato e informarlo? grazie Antonio va bene così beh in parte abbiamo già risposto si stanno impegnando diciamo abbiamo una comunità europea molto attiva ha un impianto normativo molto complesso che veramente norma ha la sostenibilità a 360 gradi gli fa sponda l'Italia che in parte percepisce e recepisce le normative europee e in altra parte prima citavo il made green in Italy promuove queste iniziative proprio per per chiarire bene l'informativa che dall'industria deve passare può passare al consumatore finale sugli impatti ambientali tutto è perfettibile però bene grazie allora grazie a tutti abbiamo chiuso qui all'anno prossimo grazie